Una rissa a settimana, anche l'ultimo weekend è stato contrassegnato dalla violenza. A piazza Beccadelli, a Sferracavallo, sabato notte due gruppi, probabilmente composti a venditori ambulanti, si sono affrontati mentre si festeggiavano i santi patroni Cosma e Damiano. Nella terrazza in cui si trovano i ristoranti, intorno alla mezzanotte, botte, lancio di sedi e di tavoli che hanno impaurito tante famiglie che si sono allontanate rapidamente dal luogo dello scontro. Copione simile a quello della settimana precedente, sempre a piazza Beccadelli. Una decina di persone aveva dato vita ad un altro scontro cruento. Sono in corso indagini, l'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella piazza e dei video girati da cittadini che li hanno poi postati sui social per risalire all'identità dei partecipanti ai due regolamenti di conti. Mentre residenti e commercianti chiedono un presidio più frequente da parte delle forze dell'ordine visto che il nervosismo e la violenza sono ormai un appuntamento fisso del fine settimana.